Namaste e benvenuti ad un altro let's play in compagnia di Ace the Brave e con me gioca Yuga Ciao a tutti! Questa volta siamo ancora con la bellissima Capcom e il gioco è Alien vs Predator vs Predator. Comunque vediamo la scritta di Alien, in realtà la I è l'occhio di Sauron. La I è l'occhio di Sauron, esatto. Predator Warrior che userà Yuga, mentre io userò perché c'è Ultimate Warrior e Predator Warrior. Io userò che sarebbe? Svazenegger. No, pensavo uno un po' Tra l'altro una pistola futuristica che fa rumore come quelle vecchie. Esatto, esatto. Ok, la storia del gioco è molto molto semplice, c'è una città che si chiama... No, 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 c'è il mondo e dal nulla Aliens. Sì, esatto. Io userò allora, dove so, io sono player 1... Shaffer... No, io sono due. Ok, io userò Shaffer, Shaffer... E io ho il Predator Warrior generico. Predator Warrior. Poi vedremo magari io userò anche la ragazza e lui userà l'altro Predator. Esatto. Picchia! Cominciamo bene. Sempre a caso. Pizza! Pizza contenute nelle cose del telefono. È di avanti, troppo. Io uso il giavellotto... Il bello del mio personaggio è che uno può sparare, però non può saltare, se no così. Il mio può fare questo, però. Non può saltare tanto bene. Perché il terzo tasto fa fare questa cosa qua. Invece il mio salta tantissimo. Oh. Ah, è il Super Magazine, esatto. Ah, ok. C'erano più colpi, in realtà. Anzi, colpi infiniti. L'hai preso tu? Quindi direi anche... Spariamo a caso ovunque. Ah, Overheat viene quando spari tanto. Ho preso il Boomerang di Sailor Moon. Io sono un cyborg con una spranga in mano. No! Hai preso tu al volo il Boomerang. Vediamo un po' cosa succede. Trovo una luce. Ma... che... Cosa sta facendo? Sta mangiando. E c'è trap comunque. Esatto. E siamo già al primo boss. L'altro hai preso tu al volo. Ma ci stiamo passando il Boomerang. È qualcosa di bellissimo. E non c'è il... il PvP. Per fortuna. Lo passiamo col piaccia vicenda. Mori, mori, mori. Ho perso il Javelotto. La luce, la luce. Lo sto prendendo a sberle. Ho le combo aeree addirittura. Ovvio. Con un pugno nell'Elizevedere. Che casino. Rai! Gettuna cioppa! Esatto. Il primo stage in due minuti l'abbiamo finito. Perché sto soffrendo? Perché? Perché ho vinto io lo stage. No, mi sto lacciando una scappa. Mi sto lacciando un piede. Vabbè, io ho già visto una parola che... Cos'era? Scambags? No, no, erano le foglie. Ah, ok. Nooooo! Cosa ho fatto? Si è saltato su per niente. Per dire... Ah, sono qua! È bello schiantare. Tra l'altro io ho anche la scivolata sui stinti. Il terrore di ogni... Di ogni terzo. Perché esplodono? Ah, perché è un lanciafiamme piccolissimo. Ah, qua è stato riciclato un oggetto da Cadillac e Dinosauri. Quale? Il... Quando devi ricaricare un'arma. Che c'è il... Come si chiama? Ah, le... Le emulizioni. Le emulizioni, esatto. Il Super Magazine. Ah, dici che è il Super Magazine? Eh, posso di sì. Quello che ti dà infinito per tuo tempo, no? Tonto, tonto, tonto. Penso sia quello. Cavolo. Gemme. Si. Nelle foglie ci sono stafari pieni di insalata. E Aragost. E pizze. È bello tipo... Come gli schianta. Si. Va bello che tipo dopo... Eh... Cioè, tutti questi alien sono dopo... Dimostrazione. Dimostrazione. Ah. Oh, l'ascensore. Siamo bloccati. Cioè, un ascensore nelle foglie. Penso sia un... Un duetto. Cioè, non hanno più idee. Allora facciamo, uniamo le cose a caso. Perché ci sono delle bombe a mano? E' bloccato di nuovo. Che scatole. No, comunque volevo dire... Ah, sbagliato. Comunque volevo dire... Nella storia, la terra dopo 72 ore è già invasa dagli alieni, no? Sì, esatto. E sembra che ci siamo. Sono noi due rimasti. Cioè, tutti i... I soldati. No, non esiste l'esercito. Perché capisco i predator che vengono in pochi, ma... A terra. Perché io sono il super soldato e quindi usano solo me. Aiuto! No, il mio bastone! No! Non fregarmi le armi! Come lo sta usando il bastone, tra l'altro? Guarda come lo usa! Adesso ne abbiamo due. Hai visto come lo sta usando? Sì! Sei l'invidia di ogni barbecue. Mi sono curato almeno che serve. Cioè, in mezzo alle fogne qualcuno nasconde giustamente. Beh, non si sa mai che nelle fogne ci serve qualcosa. Quindi... No, anche perché quelli della Capcom, visto che fanno tutti gli schemi delle fogne, quando c'è una fogna cominciano a sospettare. Esatto. Ci sono troppe fogne in questi giochi. Esatto. Oh, pezzi di cadavere! Eh, chissà cosa succederà, visto... Cioè, ma ragazzi, non avete mai visto un film? Oh, ciao bello! Razer Claw. Eh, mi è comoda. Intanto mi diverto con le casse. Eh, intanto sto morendo. C'è un fucile laser non meglio identificato. Au! Ho perso la mia prima vita! Au! Au! Aia! No! Muori! 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 Fermi tutti! Combattendo da sopra! Facciamo un po' di... Qualcuno ordinato della carne a rosto! Ma tu imprechi ogni volta che salti! Aaaaaaah! Che fa! No! Eh, fa! Fa! Esatto! Aaaaaah! Di nuovo! Eh, dati una calmata! E ci vediamo al prossimo episodio di Alien vs Predator! Yuga! Ciao! Io sono Eliste Brave! Namaste! And be brave!